Allora, buongiorno ragazzi, dietro di voi c'è una macchina che è una? 500, dagli anni 70. E con questa macchina ci siete arrivati da? Altamura, provincia di Bari. Quindi avete fatto quanti chilometri? Per meno 500 chilometri. 500 chilometri, sì. L'autostrada è... E l'obiettivo di questo super viaggio con la 500? È farci notare alla Coppa Italia per poi ripartire da Altamura insieme agli altri tre del gruppo perché siamo 5 in totale e andare a Cardiff. Sempre con la 500? Sì. Passando però da Amatrice, Roma, Torino, Milano, Parigi, Londra e poi Cardiff. E come è nata questa idea? È nata... Questa idea è nata bevendo uno spritz per fare qualcosa di diverso. Se la Juve fosse andata in finale, la Juve è andata in finale e siamo qui. Abbiamo mandato un video a Tiki Taka. Siamo andata in onda ben due volte già in sfida e niente, adesso cerchiamo di farci vedere il più possibile dalla Juve e vediamo un po' come siamo. Quindi stasera è zona stadio? Sì. Perfetto. E come la vedete stasera? Io sono molto scaramantico, quindi preferisco non esprimere il mio dischi. Lo stesso, eh? Sì, sì. Lo stesso. Va bene, grazie mille ragazzi. Grazie mille.